bella a tutti ragazzi sono stransi ma benvenuti in questo video oggi come sempre giocheremo a indovinate 5 method carissime ok devo già smetterlo di usare ogni volta leee la luce perchè la spreco soltanto ora l'unica è che devi controllare l'aria è fatta ecco 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 Buongiorno. Buongiorno tranquilli. Buongiorno. 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 Ok. E allora. E se ne sono già andati. Ok. Sto soltanto a cosi un'altra. Di nuovo Oxford. E quindi, beh, proviamo a fare il continuo della notte 5. Ok, ecco. Eccoci qua. Sono appena entrato. Ora entriamo nella zona. Ora dobbiamo andare da Funtime Fox. Funtime Foxy. Quella che odio di più, oltre a Funtime Freddy. Ballora già l'ho distrutta. Funtime Foxy è l'unica che non l'ho distrutta. Insieme alla notte del buggy. Qua comincio ad abbassare perché fra un po' ci sarà un Junker. Quindi sto così di volume e basta. Basta. Quindi ecco perché... Ok. Siamo già andati. No. 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 Siamo arrivato. Ok. E siamo entrati. Qua non dobbiamo sbagliare perché sennò ci bechiamo un bruttissimo Junker. Sarà difficilissimo farlo. Ora parlerà Circus Baby e quindi devo stare zitto. Che vai... Sette... Si ok questo è il volume adatto no io non voglio farla andare perché se la spengo lei va via vabbè ciao mi spiace un pochetto perché Circus Baby mi ha aiutato anche se lei è il nemico reale insieme a Ennard ok ma devo tornare indietro e devo stare anche qua zitto torno indietro e ma devo stare sempre zitto zitto continua ad andare ha detto siamo zitti stop go forward you are almost there stop she is right in front of you don't move he is here to help Ballora he is not here to hurt us Ballora he is here to help us go forward again Ballora is behind you she is afraid of the scooping room she will not follow you ce l'ho fatta perché sto davanti a qualcosa oh Dio Ennard là alla finestra c'è Ennard no mi ha colpito sono morto no sono morto e mo finito così il gioco non ci credo ho finito il gioco sister location visto che sempre alla fine c'è un jumpscare abbasso non me l'aspettavo così che morivo e basta io penso che si doveva continuare tipo sesta notte il continuo e altro invece no morì così no vabbè io non ci credo e quindi mo c'è anche il file maker di Ennard creato da Scott Cauton si creatore di tutti i FNAF la fine mi spiace perché è stato veramente figo veramente bello quindi così finisce così che pizza va bene ragazzi per questo video è tutto ciao da essere insieme un saluto ciao ciao ciao